Acqua sporca e casi di gastrointerite, in alcuni invece la comparsa di strane macchie rosse. Il caso della balneabilità Pescara preoccupa cittadini e turisti e ad intervenire ora c'è il Movimento 5 Stelle. Soprattutto sui bambini perché chiaramente sono i soggetti più deboli, anche se poi anche gli adulti hanno avuto alcuni problemi. Il Movimento 5 Stelle interviene a tutti i livelli, quindi sia sul comune di Pescara che in regione che a livello parlamentare con una serie di azioni che sono soprattutto di indagine, per così dire. Quindi abbiamo chiesto in regione, per esempio abbiamo già depositato un'interpellanza per chiarire quali controlli, se sono stati fatti i monitoraggi che il decreto legislativo 116 del 2008 impone alla regione. La regione ha certamente un ruolo fondamentale nella tutela del mare e delle acque e noi chiediamo che il Presidente D'Alfonso mantenga le promesse che ha fatto in campagna elettorale e faccia il miracolo della riconciliazione delle acque dolci dei fiumi con le acque salate dei mari. Chiedere analisi per conoscere la reale situazione della balneabilità per evitare danni al comparto turistico, all'immagine della città e soprattutto per la salute dei cittadini. Esattamente, noi chiediamo infatti sia ai bagnanti che ai balneatori di unirsi a noi in questa battaglia per la tutela del mare, per la tutela della salute dei cittadini e anche per la tutela dell'economia turistica che ci sembra abbia avuto una battuta d'arresto probabilmente anche a causa della scarsa qualità dei nostri mari.